Ma quante belle cose si possono fare con una bike in sharing? Che dici in condivisione? Allora, si può buttare a terra, semplicemente. Si può lasciare in mezzo alla strada. Si può utilizzare il cestino incorporato per gettarci della spazzatura. Si può lanciare giù da un ponte. Si può cannibalizzare una sella, una ruota. Si può devastare a martellate. O comunque divertirsi a piegare delle parti, che so, il parafango, i raggi delle ruote. E si può, volendo esagerare, combinare alcune delle possibilità sopradiscritte. Forte, no? Ma, sì, certo, la si può anche utilizzare per degli spostamenti, però. Trattasi di ironico divertissement, constatativo. Certamente non una istigazione a delinquere. Chiaro? Chiaro? Chiaro?